Ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube, altro giro, altra corsa, o meglio altro venerdì altra corsa oggi sono uscite le nuove Road to the Final, quindi una nuova promo piena di carte molto interessanti che sicuramente avranno suscitato il vostro palato, quindi ce le andiamo a guardare, andiamo ad analizzare quali sono effettivamente valide o meno ce andiamo a guardare anche l'SBC di Alan Potman, insomma classico videone di analisi abbastanza lungo quindi mettetevi comodi e direi di passare immediatamente sulla schermata dove ci attende il primo big boy, ovvero il buon Rafael Varane, in questa versione appunto Road to the Final cosa vuol dire che è una carta dinamica, qualora dovesse passare il turno in Real Madrid, in questo caso contro l'Atalanta, riceverebbe un upgrade andiamo subito a vedere che si tratta di una carta al valore molto elevato, ossia un prezzo di 2 milioni su PS4 e 1 milione e mezzo su Xbox che io ritengo ovviamente eccessivi e dettati dall'hype della carta appena rilasciata sicuramente andrà ad assestarsi su un prezzo un po' più basso sicuramente parliamo di una carta che rispetto alla carta base riceve degli upgrade importanti di fatti abbiamo addirittura un più 2 in accelerazione, un più 2 in sprint speed che lo rendono ancora più reattivo abbiamo un aumento anche in quelle che sono le statistiche di passaggio addirittura 5 punti in più di corto e 5 punti in più di lungo quindi questo veramente top perché lo rendono anche abilissimo con i piedi riceve ottimi, ottimi, ottimi upgrade anche per quanto riguarda la reattività e il ball control la composure ovvero la freddezza, lieve boost per quanto riguarda le statistiche difensive e boost decisivo invece per quanto riguarda forza e aggressività il discorso però che va fatto con questo Varane è che attualmente presenta il prezzo praticamente di un Toti per cui vale la pena andare a comprare questo Varane? sì, se siete gli Sheikhi del Kashmir, no, se siete un utente comune visto che questa carta qui in meno di due settimane risentirà di un crash importante visto che usciranno per l'appunto i Toti quindi sicuramente validissimo, sicuramente utilizzabilissimo ma occhio a fare spese folli soprattutto in questo periodo per questo Varane ovviamente stile intesa consigliato per il buon Raffaele, il classico Ombra altra cartina che è uscita è quella di Giorgino Vinaldum una carta che devo dire la verità anche qui molto molto valida prezzo un po' esagerato a mio avviso visto che per questi prezzi troviamo Renato Sanchez in versione Europa League troviamo un Pogba Rule Breaker insomma quindi carte che vuoi per un motivo, vuoi per un altro ritengo comunque superiori anyway, carta molto interessante di fatti riceve un più due in accelerazione e in velocità scatto riceve un più due in passaggio corto e in passaggio lungo un più due in tutte le stats di dribbling quindi questo qui molto molto agile, molto reattivo, ottima la freddezza statistiche difensive che vengono boostate con un più tre e vanno tutte quante tranne la scivolata in un colore verde di quelli che ci piacciono a noi è buone anche il boost per quanto riguarda le stats di fisico anche se qua comunque forza e aggressività rimangono parametri abbastanza deficitari poi per il resto è un 4-4 con work rate alto alto quindi niente da dire però vi ripeto che al momento io lo piazzo comunque dietro a un Kanté a un Renato, a un Bruno Fernandes, a un Pogbarul Breaker perché è maggiormente fisico sebbene magari un po' meno difensivo lo piazzo insomma dietro a questa serie di giocatori il prezzo anche qui secondo me il video lo sto registrando appena sono uscite quindi risente un po' dell'hype di queste carte tuttavia è da tenere d'occhio visto che appunto anche se il Liverpool dovesse andare avanti potrebbe ricevere dei boost molto interessanti diciamo che questo qua ovviamente vi dico promosso ma con riserva per quanto riguarda stile intesa anche in questo caso il classico ombra ruolo consigliato cc in un 4-4-2 o cdc in un 4-2-3-1 un'altra carta che mi ha sorpreso tanto è questo David Alaba e vi spiego perché dicevo che questa è la carta che esce al momento giusto di fatti si affaccia al periodo Toti e questo difensore qui vi permette di linkare il buon Alfonso Davis che se non succede qualcosa di strano dovrebbe uscire Toti vi permette di poter linkare anche Klosterman quindi si potrebbe andare a realizzare una bella difesa baggatona con Alaba Klosterman il buon Davis e li addestra insomma a trovare qualcuno da andarci a piazzare 4-4 per il buon Alaba riceve anche lui delle stats importanti aumentate più 3 in accelerazione e in velocità scatto abbiamo poi un più 3 in passaggio corto e un più 3 in passaggio lungo addirittura più 4 in quelle che sono le stats di dribbling quindi diventa molto molto agile molto reattivo ottima la freddezza statistiche di difesa che anche qui vengono bustate di 4 e diventano veramente eccezionali forza 80 e aggressività 78 rimangono ancora un pochino così e così però assolutamente valori al top per questo Alaba che vi ricordo che ha il turno contro l'Atalanta quindi diciamo un avversario abbastanza malleabile che potrebbe essere superato facilmente no scusatemi contro la Lazio Atalanta è contro il Real scusatemi potrebbe essere facilmente superabile dal buon Bayern che diciamo che con le Romane ha un buon feeling in Champions League e quindi potrebbe andare ulteriormente a bustarsi essere sempre più il partner ideale per linkare il buon Alfonso Davis che vi ripeto vi aspetto toti quindi stile intesa ombra per il buon Alaba da provare tanta tanta roba secondo me promosso a pieni voti un'altra carta molto interessante è questo Cancelo che secondo me costa anche poco da cosa vedo 4-3 work rate medio-alto che diciamo non mi preoccupa più di tanto riceve anche lui degli ottimi boost abbiamo un più 3 in accelerazione un più 3 in velocità scatto un più 3 nelle statistiche di dribbling quindi diventa un po' più agile un po' più reattivo maggiore freddezza più 4 per quanto riguarda le statistiche difensive che diventano molto molto valide più 4 anche qui in passaggio corto e passaggio lungo più 3 in forze e aggressività che rimangono comunque parametri abbastanza deficitari tuttavia questo qua va a fare tranquillamente la guerra al buon Semedo quindi andare a provare e andare a prendere anche in ottica upgrade perché il City anche in questo caso ha un turno abbastanza agevole che potrebbe essere superato e questo qui potrebbe candidarsi a diventare l'outsider della fascia destra visto che comunque linka di tutto e di più linka Renato, linka Ronaldo, linka Walker DC linka Bruno Fernandes linka la qualunque quindi veramente tanta roba e vi ripeto secondo me al momento il prezzo è anche abbastanza basso vi dico questo stile intesa in questo caso io andrei a piazzare o un'ombra o un'ancora visto che ai terzini sono solito anche andare a mettere ancora prossima carta abbiamo il buon Julien Boant che ve lo dico alla francese ma è la tette d'Ashkent quindi abbastanza inutile 4-4 per lui 1,85 di Cristiano con medio-alto anche qui boost che sono abbastanza interessanti un più 3 in accelerazione un più 3 in velocità diciamo che bene o male i boost che hanno ricevuto queste carte sono abbastanza omogenee più 3 per quanto riguarda tutte le stats di dribbling un più 3 in passaggio corto e lungo qui il discorso è che si tratta di un giocatore di 1,85 quindi con l'agilità 84 sicuramente non l'andate a sentire questo qua mi sa un po' di tronco quindi onestamente io su sto brand non ci andrei a fare follia onestamente non lo vedo titolare da nessuna parte non lo vedo utilizzabile perché c'è di meglio soprattutto in questo ruolo e lo vedremo anche già in questo video un suo validissimo contender quindi direi che si può tranquillamente bypassare il buon Giuliano però insomma questo qua considerando anche il cammino del Dortmund se lo prendete lo potete pure provare a tenere come bettata a vedere il Dortmund che fa e rivenderlo a un prezzo maggiorato se è in odore di upgrade però sicuramente bocciato per l'utilizzabilità abbiamo poi il buon Mauro Icardi carta più inutile di questa non poteva uscire perché parliamo di un giocatore con 3 di skill e 4 di weak foot sapete quanto sono importanti le skill quest'anno almeno 4 per fare un doppio passo come Cristo Comanda un tacco-tacco come Cristo Comanda eccetera eccetera perché le skill vi ricordo incidono su anche la qualità della skill uno che ha 4 di skill fa un doppio passo meglio di Stoicardi che è un 1,81 di giocatore con 74 di forza bello piantato per terra 78 di accelerazione 77 di velocità insomma mi fa anche un po' tenerezza il buon Mauro che sicuramente avrà modo di consolarsi con Wanda per aver ricevuto questa carta che insomma è totalmente useless quindi bocciatissimo il buon Mauro le cose tornano invece a farsi interessanti col buon Polpo Ba in questa sua versione Europa League che costa come al solito uno sfacelo ogni volta che Pogba prende una carta speciale va totalmente alle stelle per poi assestarsi vedete con l'IF a un prezzo molto più cristiano visto che questo praticamente è il doppione della carta IF solamente in versione dinamica quindi qualora il Manchester United dovesse proseguire la sua cavalcata in Europa League se lo augura chi è magari Richard Rashford se lo augura chi prenderà sta carta potrebbe diventare valido c'è poco da commentare perché insomma vi ripeto che è il doppione della carta IF l'unica cosa è un boost per quanto riguarda le statistiche di passaggio io a questo al momento continuo a preferire la versione Rule Breaker che come vedete ha un più 15 di difesa sebbene abbia un meno 11 di passaggio ma comunque i passaggi di Sto Pogba vi assicuro non sono male e in termini qualità prezzo ci passa praticamente un milione quindi se volete prenderlo a vostro rischio e pericolo io vi ripeto prendete a questo punto il Rule Breaker o se proprio volete io prenderei l'IF visto che questo qua è un upgrade prima di mai non lo vedrà visto che le partite di Champions Europa se non erro si disputeranno a febbraio quindi direi next ottima carta ma prezzo spropositato questo qui già so che mi causerà ulcere varie perché tutti i miei adorabili seguaci tifosi del Napoli mi chiederanno se sto in signe è valido la risposta è sì perché riceve un boost significativo rispetto alla carta base rispetto alla carta IF invece il boost è molto molto lieve riceve solamente un punto in più in accelerazione dribbling tiro passaggio eccetera e alla fine non ci passa manco tanto di differenza quindi considerando che comunque il Napoli può tranquillamente andare in Europa League e questo può gradarsi si può anche andare a prendere questo piuttosto che la carta IF sebbene al momento siano molto simili è comunque un 4-4 molto scattante con una bella cacciatore l'esterno lo può fare volendo anche l'attaccante in un'attacca a 2 e il buono lo insigna soprattutto in una serie A è il top esterno lì a sinistra e quindi tanta roba lo scugnizzo napoletano altra cartina è questo tacchefusa cubo incubo di tutti i giocatori di foot dell'anno scorso 4-4 riceve una miriade di boost rispetto alla carta base un più 8 in accelerazione un più 6 in velocità un più 11 in praticamente tutte le stats di tiro che comunque rimangono abbastanza al limite un più 11 anche in stats di passaggio col corto che diventa ottimo mentre il lungo è sempre abbastanza marcio un più 8 in tutte le stats di dribbling che lo rendono sicuramente molto molto agili visto che è comunque un giocatore anche di 1,73m poi per quanto riguarda invece il resto delle statistiche abbiamo un più 15 in stamina cosa molto utile un più 10 in aggressività in forza e un più 9 in aggressività che insomma poco ci interessano sto cubo onestamente io lo utilizzerei magari più da super sub con una bella cacciatore piuttosto che da titolare visto che comunque parliamo di una carta con 77 di freddezza che mi fa sempre scattare il campanello d'allarme altra cartina niente male nel senso niente male da tirare nel pattume è questo Tadic che ha 70 di velocità è un 4 skill con 3 di piede debole è un Cristo di comunque 1,81m con 79 di agilità e 77 di forza totalmente piantato una nazionalità marcia insomma direi che si commenta abbastanza da solo cosa che invece non accade per questo Rebic che riceve una quantità di boost veramente importanti con 4 punti in accelerazione e velocità 5 punti in tutte le stats di tiro 7 punti nelle stats di passaggio col corto che diventa ottimo il lungo rimane abbastanza così agilità che va 80 ma parliamo di un giocatore di 1,75m con 86 di forza quindi sicuramente abbastanza piantato ma per quanto riguarda una Serie A questo Rebic è molto valido io ho provato il base inizio anno e devo dire che non mi era dispiaciuto diciamo che in una mia personale classifica di attaccanti di Serie A tolto Cristiano Ronaldo al momento ci piazzo magari Muriel al primo in termini di rapporto qualità prezzo poi ci piazzo questo Rebic sicuramente che merita di essere di essere provato potrebbe potrebbe dire la dire la sua carta molto esotica passiamo a SBC e obiettivi dei giocatori Freeze è questo Volland che da attaccante mi diventa difensore centrale si prende un boost in velocità di 5 punti si prende un boost della difesa di 36 punti 58 di mentalità difensiva 31 di scivolata 47 di contrasto in piedi io vorrei sapere veramente cosa succede negli uffici della EA io mi immagino la scena quelli sono seduti a fare riunioni cosa facciamo uscire oggi questo si sveglia e mi fa oggi facciamo uscire Volland ah come l'attaccante del Monaco ok versione speciale cosa facciamo no e allora io lo farei esterno sai un attaccante lo spostiamo in fascia arriva quello che si gira e fa no ragazzi io Volland lo facciamo uscire DC tutti quanti si girano lo guardano gli fanno un aplauso si bellissimo facciamolo uscire DC e hanno fatto uscire Volland DC che onestamente mi fa ridere commentare perché paradossalmente statisticamente non sembra manco male ma tedesco della Ligan onestamente io non saprei come andarlo a mettere in una squadra mi fa ridere vi ripeto perché comunque è un giocatorino di 1,79m quindi sto DC non è che lo può fare in maniera proprio egregia però è un giocatore gratis quindi per ridere si può anche andare a sbloccare lo sapete come la penso giocatore che invece è molto interessante è questo Gnabry che non costa manco tanto costa su 200k quindi con carte all'interno del club può essere pagato per due spicci riceve boost belli solidi belli importanti come possiamo vedere un più 3 per quanto riguarda le statistiche di accelerazione un più 5 di velocità per quanto riguarda le statistiche di tiro riceve un più 3 in potenza o meno uno in finalizzazione passaggi che diventano top con 91 di lungo di corto e 88 di lungo abbiamo poi statistiche di agilità che anche qui vengono boostate di 3 e il resto con 74 di forza e 68 di aggressività parliamo di un giocatore di 1.75 quindi vi ripeto 4-4 molto valido questo qua può giocare tranquillamente da esterno anche da punta in un attacco a 2 può fare anche il CEC con i passaggi che si ritrova stile intesa consigliato cacciatore a concludere abbiamo la SBC di Aaland 326 di giocatore tutti non scambiabili che vi rimane sul groppone un anno intero per un giocatore che è 3-3 per carità è veloce ma è un Cristo di 1.94 con 97 di forza questo significa una sola cosa non si muove da terra per cui non ce lo vedo a fare l'esterno non ce lo vedo a fare esattamente nulla se non la figurina su Footbeam perché onestamente non mi salterebbe mai in mente di buttare 300k di carte o di crediti in questo giocatore che insomma poi non potete andare a rivendere e ve lo dovete portare indietro un anno quindi ragazzi per quanto riguarda questo evento è tutto spero che questo video come al solito vi abbia abbia soddisfatto tutte le vostre curiosità mi raccomando di lasciare un like un commento scrivetevi al canale che stiamo volando trovate in descrizione tutte le info per quanto riguarda le live giornaliere sulla piattaforma Viola e nulla ragazzi per oggi è tutto e io vi saluto ciao